salve oggi vi faccio vedere questa è casa mia ho un piccolo pezzettino di terra che due metri che quattro quattro metri e mezzo dove ho piantato le fragole bellino anche grossi i baccelli i pomodorini la menta il gersomino altre fragoline raggiù nascoste le zucchine queste sono zucchine nane quelle sono zucchine normali insalata riccia questa insalatina l'ho pianta tutta stamane raggiù abbiamo pomodori peperoncini carote cipolle quello è un girasole gigante vi farò vedere tra un paio di settimane e l'insalatina visto bravo ciao